Allora grazie Paola, grazie a tutti, benvenuti e cerchiamo di insomma di passare queste due ore insieme magari occupandoci delle nostre passioni, delle nostre letture e sono particolarmente contenta anche a nome della Società Filosofica Italiana di questo incontro che ha raccolto, lo vedrete nei prossimi incontri, una serie di studiosi, di esperti e mi permetto di dire anche di amici perché vedendo l'entusiasmo e la disponibilità con cui hanno accolto l'invito ad animare questo ciclo di incontri posso dire che appunto sono degli amici ancora prima che esperti e studiosi di primo ordine. Io mi trovo in maniera un po' immeritata ad aprire questo ciclo di incontri ma diciamo il ruolo un po' me lo sono cercato quando insieme alla dottoressa De Roberto abbiamo deciso insomma di fare qualcosa. Quest'anno eravamo molto dispiaciuti di non aver potuto tenere nel Cilento a maggio i canonici incontri di Certamina, il Middose Festival e quindi ci eravamo ripromesse comunque di mantenere un appuntamento per l'autunno e quindi siamo qui proprio con questo scopo. La chiave che è stata scelta è quella del lessico, la chiave lessicale perché le parole non sono appunto indifferenti ma sono degli strumenti, delle chiavi di accesso per interpretare la contemporaneità ma sono delle chiave che ci consentono di sondare, di solcare i testi e nel nostro caso i testi del pensiero antico. La parola che io ho scelto è crisi e devo dire che il termine mi è in parte diciamo stato suggerito sia dal contesto che stiamo vivendo che stiamo vivendo anche prima dell'estate quando in parte abbiamo iniziato a pensare questo corso. Quindi un po' suggestionata dal contesto, un po' memore di alcune letture, vorrei provare a condividere con voi il mio schermo. Vediamo se ci riesco perché avevo preparato alcune slide. Allora vediamo se così riesco. Allora condividi. Ok, dovreste vedere delle slide spero. Sì ci suona. Ci suona, ecco grazie per il feedback. Eccolo qua. Allora, vi dicevo appunto il termine scelto, il termine crisi in parte suggerito dal contesto, in parte suggerito da questa lettura che è un piccolo volumetto che consiglio, edito da Ombrecorte, che consiglio a tutti i colleghi di storia e di filosofia perché è appunto dedicato alla voce crisi ed è la traduzione in italiano appunto di questo termine che lo storico tedesco Reinhard Koselleck aveva stilato intorno agli anni 50 per un dizionario storico tedesco. e nel scursus che Koselleck fa naturalmente si richiama alle origini del termine e il termine crisi appunto nasce nell'antichità greca, possedeva significati delimitati in maniera relativamente chiara in ambito giuridico, teologico e medico. Questo concetto poneva di fronte a delle scelte alternative nette, crino vuol dire giudico ma vuol dire anche dividere è un termine che deriva anche dal lessico agricolo perché corrisponde, descriveva la pratica di separare il grano, la spiga dal chicco del grano e quindi questa separazione netta è la separazione delle alternative in ambito giuridico tra chi ha torto e chi ha ragione chi è innocente e chi è colpevole, in ambito teologico tra la salvezza o la dannazione, in ambito medico la decisione appunto è tra la vita e la morte. A partire dal XVII secolo questo termine ha un'estanzione metaforica al campo della politica, alla psicologia, all'economia e infine alla storia. Il termine, l'analisi che Cosellec fa è proprio legato a questa declinazione storica perché il termine diventa proprio la temporalizzazione di alcuni processi storici. Nel XVIII secolo la cosiddetta polivocità metaforica, la duttilità, la flessibilità di questo termine gli fa assumere tutte le sfumature di significato che in parte noi oggi conosciamo e addirittura Cosellec dice che ormai il termine è talmente entrato nel linguaggio ordinario che si è trasformato in una parola d'ordine. Nel nostro secolo, lui appunto compila questa voce nella prima metà degli anni cinquanta, non c'è ambito della nostra vita che si sottragga gli accenti gravi di decisioni impressi da questa espressione. Siamo sempre in crisi. Crisi è il tratto distintivo dell'epoca moderna. Se consultiamo quindi un qualsiasi dizionario, vediamo che il termine crisi ha una sua declinazione in tutti gli ambiti, da quello politico a quello economico, quello psicologico, alla sociologia. Addirittura la grande crisi, la crisi per eccellenza, è ancora oggi la crisi economica del 29. Ora, dopo questa pandemia, non so se verrà rimpiazzato, ma il concetto è fuor di dubbio una parola d'ordine, un concetto epocale. Ma io direi che è una parola d'ordine, è un concetto epocale non solo per la storia, non solo per il nostro tempo, ma è proprio un concetto chiave della filosofia. Qui mi sono divertita a riproporvi alcuni titoli di libri, di riviste, insomma, di filosofia, ma è veramente una ricerca rapida fatta di immagini, ma se volessimo veramente sbizzarrirci a cercare un po' più a fondo, penso che non ci sia titolo, che non ci sia pubblicazione scientifica, filosofica che non richiami a una certa crisi. Anzi, la crisi nel senso di messa in crisi, di messa sotto giudizio, di critica, è un aspetto costitutivo della riflessione filosofica, della filosofia come disciplina. Qui ho messo questa slide soprattutto perché sapevo che ci sarebbero stati moltissimi studenti collegati e questo è un semplice esempio di come anche la ricerca di un termine online attraverso uno strumento digitale come il vocabolario Treccani possa essere un valido strumento della rete per cercare di orientarsi, di andare sempre a scavare nei termini e ad affidarsi a strumenti affidabili in qualche modo, come può essere un vocabolario di pronto uso online come quello Treccani. E il dizionario di filosofia della Treccani appunto ci ricorda tutti questi usi del termine crisi che fanno parte proprio dell'ambito filosofico. La crisi è la crisi di una teoria, si parla addirittura di crisi della filosofia del Novecento ed è di nuovo un termine per indicare la fine, se pensiamo per esempio a Kuhn, di un paradigma concettuale, di un modello di idee a cui poi subentra un altro che supera in qualche modo e che apre nuove possibilità. Se invece andiamo appunto al vocabolario ci ricorda correttamente il vocabolario Treccani che la prima occorrenza del significato del termine appartiene al linguaggio medico e definisce la repentina modificazione in senso favorevole o sfavorevole di stati morbosi. In particolare per la rapida caduta della temperatura e malattie febbrili acute. La crisi o meglio i giorni di crisi nel lessico ippocratico corrispondono appunto a quei giorni legati soprattutto alle febbri che potevano anche essere febbri ricorrenti, quindi febbri terzane, febbri quartane eccetera e l'andamento ciclico o l'andamento della febbre poteva fare il presentarsi a distanza di un certo numero di tempo, di giorni, poteva essere l'indice, era anzi la spia di un andamento della malattia che poteva evolvere in senso positivo e quindi portare alla guarigione oppure in senso negativo e portare necessariamente alla morte. questo per dire però che effettivamente Cosell ha ragione nel dire che in fondo la crisi è la cifra della modernità, non c'è ambito in cui questo termine non si possa o non sia stato speso però credo che bisognerebbe invece sottolineare che crisi non è solo un termine epocale per la filosofia o per la contemporaneità ma sia un termine chiave anche per la storia della medicina la possibilità di individuare i giorni critici di una malattia sono diciamo il risultato, l'esito di un lungo e complesso e anche sofferto dibattito percorso di ricerca intellettuale con cui la medicina ha progressivamente costituito se stessa quindi quello che cercherò di fare con queste poche riflessioni che appunto facciamo insieme che voglio appunto condurre insieme a voi è cercare di far emergere la fondamentalità nel senso proprio dei fondamenti di questo termine rispetto alla tradizione pratica un aspetto fondativo che gli viene grazie al confronto con la riflessione filosofica delle origini ripeto poter individuare dei giorni critici all'interno dello sviluppo del percorso potremmo anche dire dell'evoluzione di una patologia ha rappresentato un vero e proprio salto epistemologico all'interno della pratica medica un salto che ha innalzato le pratiche empiriche, tecniche in fondo i medici erano sempre definiti anche da Platone come dei praticanti, dei demiurgoi quindi una disciplina che ho difficoltà a chiamare episteme, a chiamare scienza proprio per il suo carattere di forte confronto, di forte radicamento nell'emperia, nell'esperienza ma il salto epistemologico avviene proprio quando l'esperienza pratica subisce la contaminazione della riflessione filosofica e in particolare dell'indagine naturalistica delle origini quello che fa fare il salto di qualità è l'importanza di da una parte unificare la molteplicità delle esperienze dall'altra di individuare dei principi esplicativi le cause delle diverse malattie il fatto che ci sia un'anamnesi, che ci possa essere quindi anche un'autopsia nel senso proprio di indagine, di osservazione del malato di attenta presa in considerazione della sua sintomatologia e che quindi la diagnosi sia il prodotto della considerazione di tutti questi aspetti fa sì che si possa ipotizzare una prognosi prevedere appunto i giorni critici e ipotizzare una terapia che cosa quindi ha fatto fare il salto di qualità alla medicina greca rispetto ad altre tradizioni mediche anche più antiche di quella greca come per esempio quella egizia il salto di qualità avviene guarda caso sempre nello stesso secolo in quel quinto secolo che è l'epoca della nascita della filosofia come forse in maniera più compiuta si avvicina sempre più alla nostra nozione di filosofia alla nascita della storiografia con tucidete con una diciamo consapevolezza una maturità che si avvicina molto anche alla nostra sensibilità in questo quinto secolo la medicina greca si emancipa rispetto alle tradizioni precedenti in particolare come vedremo la tradizione cnidia e la tradizione italica si emancipa soprattutto rispetto alla tradizione sacerdotale ho voluto richiamare brevemente alcuni versi di due opere fondamentali che appartengono alla nostra tradizione culturale due opere fondanti una è l'Iliade e appunto richiamo i versi principali i primi proprio l'incipit del primo libro in cui il figlio di Zeus e Ladona Apollo ha irato con il re perché come sappiamo tutti il sacerdote Crise lo ha in qualche modo supplicato di punire Agamemnon o comunque l'esercito greco per il grave sgarbo commesso nei confronti di sua figlia e in risposta a tutto ciò Apollo diffonde fa nascere nel campo Acheo una mala peste un nuson kaken non solo Omero ci descrive la modalità con cui la peste si diffonde nel campo si muove si diffonde come lo scendere della notte e come l'attraversare di una freccia che viene scagliata quindi la freccia diventa proprio la metafora della diffusione del morbo che all'inizio colpiva gli animali ma poi sempre di più fa cadere fa cadere gli uomini il morbo quindi non ha una spiegazione razionale non ha una spiegazione interna alla natura ma è una punizione ma è una punizione proprio nei versi iniziali si apre con la descrizione della città di Tebe ormai completamente agitata e vessata da un loimos ectistos cioè da una terribile pestilenza che di nuovo è stata mandata da un purforos teos da un dio che in nifero traduce cantarella cioè da una divinità che brucia tutto che distrugge tutto che accende tutto quindi rispetto a questa idea del male come origine divina idea diffusa perché se pensiamo che faceva parte del patrimonio collettivo condiviso si presume che Sofoche abbia più o meno messo in scena l'edipo re intorno al 411 quindi dopo la la peste di Atene appunto evocare divinità che mandano pestilenza faceva assolutamente parte del patrimonio condiviso e collettivo qualcuno mi ha bloccato le slide eccoci qua eccoli qua ok cosa fa la scuola ippocratica la scuola ippocratica si deve emancipare quindi rispetto a questa tradizione di pensiero rispetto alla medicina sacerdotale e si costituisce innanzitutto come disciplina pubblica aperta al confronto al dibattito pubblico una medicina appunto che non risiede nei templi come per esempio continuerà ancora per molto tempo la medicina egiziana una tradizione quindi pubblica aperta sottoposta al confronto critico e all'indagine e la discussione razionale una medicina ripeto laica rispetto alla tradizione knidia invece che comunque rappresenta un ottimo antecedente e che in gran parte anche confluirà nella scuola i cui echi troviamo anche nei testi ippocratici che cosa che cosa manca tra virgolette alla medicina knidia gli manca la teorizzazione i testi che abbiamo ci riportano un amplissimo catalogo di malattie un'amplissima appunto casistica direbbero noi un'ampia descrizione di sintomi di stati morbosi ma non c'è la capacità di fare quel salto logico dalla manifestazione alle cause cercare di capire quali sono appunto le possibili leziologia delle malattie per poter poi pensare ad un'azione di tipo terapeutico tant'è vero che gli storici della medicina antica mettono spesso in evidenza la scarsa le scarse possibilità terapeutiche della medicina knidia l'altro elemento l'altro riferimento importante rispetto a cui la medicina ipocratica si costituisce è la medicina italica e in modo particolare la figura di alcmeone di crotone la medicina ipocratica ha un grosso debito rispetto alla medicina italica perché ad alcmeone risale una prima teorizzazione della salute come armonia o meglio come isonomia degli elementi la malattia come una monarchia quindi c'è un uso di una metafora politica per spiegare la salute e l'equilibrio del corpo una salute appunto determinata da una crasi dall'unione dalla mescolanza e dal giusto bilanciamento fra i vari elementi come il caldo il secco l'umido e il freddo che compongono il corpo umano ma che compongono tutta la natura all'interno della quale la stessa natura umana viene a descriversi teoria fondamentale che sembra essere alla base della teoria dei quattro mori che poi troveremo più avanti sistematizzata da Galeno e che attraverso di lui verrà tramandata ancora fino alla modernità una presa di distanza da questa tradizione medica la vediamo proprio nell'incipit di una delle opere effettivamente più antiche del corpus impogratico che è l'antica medicina nel quale appunto Ippocrate in questo caso probabilmente si tratta effettivamente di lui mentre per altri scritti appunto non sappiamo che se sia stato appunto lui l'autore oppure appartengono all'ambiente della scuola comunque per questo testo probabilmente lo stesso Ippocrate decidrice che quanti hanno intrapreso a parlare o a scrivere di medicina fondando il proprio discorso su di un postulato che è ipotesin che non è qui proprio ipotesin ma è ciò che postulo che metto in qualche modo sotto il caldo il freddo o l'umido il secco o quale altro abbiano scelto troppo semplificando la causa originaria delle malattie della morte degli uomini a tutti i casi attremuendo la medesima causa perché si basano su una o due postulati costoro sono palesemente in errore su molte cose e persino nelle loro affermazioni allora qual è l'errore di questa medicina se vogliamo italica o comunque di tradizioni precedenti che si richiamano a questa forma questa metodologia a questo orientamento di pensiero di aver semplificato troppo di essere forse una medicina troppo teorica di aver individuato questi quattro elementi e di ricondurre tutto a questi quattro poi di fatto alla commissione alla unione di queste quattro di questi quattro elementi in realtà come vedremo per il medico e poi gratico sono molto più ampie molto più complessi i fattori che bisogna prendere in considerazione quando si ha a che fare con la malattia e con il malato e infatti continuiamo dopo non dico perciò che si debba rifiutare l'antica medicina quasi non esistesse o non fosse stata bene indagata perché non ha raggiunto su tutto l'esattezza ma che piuttosto mi pare perché da una profonda ignoranza essa è giunta vicinissimo alla certezza per forza logica e quindi si devono comunque ammirare le sue scoperte che sono state conquistate in modo giusto e corretto e non secondo l'accidentalità del caso quindi la medicina ipocratica diventa fa il proprio salto teorico il proprio salto epistemologico attraverso una diversa considerazione delle cause dei principi che spiegano le malattie e questa eh questo modo di guardare alla natura e all'uomo divengono proprio dal confronto con l'indagine naturalistica eh della prima metà del quinto secolo eh un'indagine che appunto non si ehm si accontentava di descrivere fenomeni ma che ne cercavano le cause ed è proprio l'eziologia a fare fare alla medicina quel salto teorico che la porterà progressivamente a eh a costituirsi sempre più come un sapere eh ehm rigoroso e non come una pratica empirica una pratica accidentale il sintomo il semeion è l'epifenomeno di cause nascoste che il medico deve svelare attraverso l'indagine attraverso l'osservazione che è appunto un'osservazione guidata da rigidi da severi eh criteri e infatti di nuovo eh sempre eh in medicina nel secondo capitolo troviamo la la difesa da di questa nuova pratica eh attraverso la appunto la la confutazione delle obiezioni che le venivano mosse ma la medicina dice da gran tempo ormai dispone di tutti gli elementi e il principio e la via sono stati scoperti la medicina ormai ha trovato la sua archè e la sua odos è il il metodo e sono appunto i principi grazie ai quali in lungo corso di tempo sono state fatte molte regge scoperte e il resto nel futuro sarà scoperto se qualcuno in grado di farlo e a conoscenza di quanto già è stato scoperto da questo prendendo le mosse porterà avanti la ricerca chi invece rifiuta tutto questo e cerca un'altra strada cerca un altro schema altri principi altre categorie e appunto si accinge alla ricerca e dice di aver trovato qualcosa si è ingannato e si inganna infatti è impossibile l'unica vera via della ricerca è questa questo è il metodo d'indagine questi sono gli strumenti della pratica medica alcuni interpreti hanno rintracciato in queste poche righe eco anche dei versi del poema Parmenideo il fatto l'idea di richiamare ad una strada della ricerca l'idea di lo stesso uso del vergo exepatetai ci rimanda alle alle strade alla doxa ingannevole degli uomini probabilmente quindi questo insieme di elementi filosofici tradizioni precedenti si innestano e producono quella grandiosa forma di pensiero che è la medicina ippocratica di nuovo la complessità della pratica medica è appunto legata al non ridurre i principi ma per prevedere quali malati guariranno quali periranno quali la malattia durerà più giorni appunto il medico deve possedere un'approfondita conoscenza di tutti i sintomi ed essere in grado di valutarli questa è la grandezza diciamo il salto teorico fondamentale della medicina ippocratica e quello che dicevo anche prima cioè il sintomo diventa l'epifenomeno di uno stato patologico di una malattia dove c'è il sintomo c'è la malattia il problema potremmo dire che la conversiologica non funziona perché non è detto che dove manchi il sintomo manchi la malattia e lo abbiamo visto proprio nei fatti più recenti di questa pandemia la problematicità dei cosiddetti asintomatici il non presentare sintomi non è indice di assenza di malattia ma comunque sia l'altro verso invece dove c'è il sintomo deve esserci la malattia e ci devono essere delle ragioni delle cause esplicative che portano all'inquadramento della patologia alla sua diagnosi al fatto di poterle attribuire un nome e al fatto di poter fare una prognosi e quindi individuare eventuali giorni critici e individuare l'esito ultimo il medico appunto deve poi seguire con prontezza le tendenze delle malattie endemiche non trascurare la costituzione della stagione perché anche avere idea della natura del contesto ambientale orientamento dei venti qualità delle acque sono tutti i fattori che possono spiegare e possono essere appunto esplicativi e ziologici di determinate patologie endemiche questo occorre sapere bene intorno agli indizi e vari sintomi che in ogni anno in ogni regione quelli cattivi significano qualcosa di cattivo quelli favorevoli qualcosa di buono bisogna ben sapere che negli stessi luoghi non è affatto impossibile ottenere successo nella gran parte dei casi se li si è compresi appunto a fondo se manca il nome di qualsiasi malattia non è un problema tutte infatti vengono a crisi ecco qui l'uso termino tecnico del termine nei giorni predetti e potrai riconoscerle dai medesimi sintomi qui in questo passo delle epidemie libro primo capitolo 23 mi sembra di poter trovare una formulazione sintetica e anche chiara di tutto quello che stavamo dicendo quindi della necessità di considerare tutti i fattori e di ricondurli ad una visione d'insieme a principi unitari questi fenomeni relativi alle malattie dai quali traevo le mie conclusioni fondandole su quanto vè di comune quanto di individuale nella natura umana quindi la natura umana a tratti comuni e a tratti individuali sulla malattia sul malato sulla dieta e su chi la prescrive questi sono tutti i fattori che vanno presi in considerazione e che giocano un ruolo diverso nella diagnosi la costituzione generale è specifica dei fenomeni celesti di ciascuna regione ma un altro elemento fondamentale che incide sulla salute dell'individuo e quindi anche sulla genesi di possibili processi patologici ci sono i costumi la professione per esempio il regime il modo di vita l'età naturalmente ma qui addirittura il medico ippocratico sembra anche pensare a patologie che noi definiremmo psichiatriche o psicologiche psicosomatiche perché non solo è importante appunto vedere i sintomi fisici ma anche come parla i modi i silenzi i pensieri il ritmo del sonno l'insonnia ma anche i gesti involontari trapparsi i capelli grattarsi piangere sono tutti sintomi come appunto potremmo dire noi di stati patologici interiori o fisici o mentali quindi sulla base di tutto ciò bisogna condurre l'indagine bisogna analizzare il malato e la malattia e quindi in conclusione possiamo dire che crisi il termine crisi la crisi in fondo non è solo la parola chiave della contemporaneità o della modernità quella che stiamo vivendo è solo l'ultima di una serie di crisi che l'uomo si è sempre trovato ad affrontare crisi non è solo una parola chiave del lessico filosofico crisi è anche la parola chiave che ha portato alla nascita e al costituirsi della medicina come disciplina rigorosa come disciplina che noi oggi definiremmo scientifica come una disciplina fondata sull'oghismos sul ragionamento sull'esperienza sulla pratica ma soprattutto sul ragionamento il medico deve descrivere il passato leghe in età progenomena conoscere il presente per poter prevedire il futuro questo è il suo compito al medico noi chiediamo una diagnosi chiediamo di prolege in età esomena dirci prima come saranno le cose ma tutto questo lo può fare solamente se appunto conosce il passato e conosce la situazione presente ma soprattutto se c'è un'alleanza di questi tre momenti la malattia tonosema il malato onoseon e il medico stesso non c'è non c'è un prevalere dell'uno sull'altro ma la malattia va sempre inquadrata nel contesto e dell'individuo quindi della singolarità dell'individuo del malato pur nei suoi tratti comuni e universali a cui il medico con cui il medico come individuo come professionista è come pratico come diemiurgos è chiamato a confrontarsi il medico è il ministro di quest'arte e si deve opporre alla malattia insieme al malato in questa nuova alleanza fra medico e paziente ho voluto proprio riportare queste tre brevi passi che sono posti uno dietro l'altro proprio nel capitolo undici del primo libro delle epidemie perché mi sembra che sintetizzino in maniera molto chiara il nucleo fondante nucleo teorico centrale della medicina epocratica una medicina che ha saputo in qualche modo recuperare tutta la tradizione precedente per riluminarla ricalibrarla rinnovarla alla luce della riflessione filosofica del quinto secolo una riflessione che gli ha dato quell'impulso e quella solidità discenta quindi per concludere il termine crisi non è solo un concetto chiave una parola d'ordine della modernità ma è anche la parola d'ordine della medicina grazie Francesca grazie a voi io mi sono un pochino dilungata ma insomma ho amicurato di essere di dare un po' tutti gli elementi a tutti per cercare di seguire questo discorso allora io a questo punto che ho preso un po' in mano le redini di questo dibattito di questo confronto di questo incontro chiamerei a parlare Riccardo Chiaradonna per poi che avrà anche lui una buona mezz'ora una mezz'oretta di tempo a disposizione per parlare di epidemia dopodiché avremo l'ultima ora legata insomma disponibile al dibattito e alle domande sempre in chat da parte dei professori allora Riccardo ti prego di accendere il microfono perché purtroppo io sono in linea e sto parlando mi ascolti ti vedo ti vedo benissimo va bene allora le presentazioni io non amo fare le presentazioni no infatti non sono necessarie no però insomma sei un professore di insegni storia della filosofia antica presso l'università degli studi di Roma 3 e un esperto appunto di pensiero anche tardoantico e Plotino a cui dedicato vari studi ma non solo Plotino siccome il professor Chiaradona appunto insegna all'università degli studi Roma 3 il suo curriculum è pubblico per cui chi fosse curioso e volesse conoscere tutte le sue numerosissime pubblicazioni le può trovare online e disponibili vi passo subito la parola perché appunto dalla crisi delle malattie arriviamo a un dalle dallo smos dell'ediporeo le malattie diffuse da a bollo nel campo degli aghei arriviamo alle epidemie prego allora innanzitutto buonasera ringrazio moltissimo Francesca Gambetti le organizzatrici gli organizzatori di questa di questa iniziativa io parlerò in circa trenta minuti di come l'epidemia e in particolare quella che viene chiamata tradizionalmente epidemia di peste in realtà non era una peste fu vissuta e percepita all'epoca dell'imperatore Marco Aurelio e in particolare mi soffermerò sulla testimonianza del medico Galeno il medico Galeno che è un testimone d'eccezione perché è stato uno dei più grandi medici del mondo antico forse il più grande e si è trovato a vivere durante la gravissima epidemia vedremo tra poco di che cosa si trattava che colpì l'impero romano all'incirca tra il 166 dopo Cristo e gli anni successivi in realtà non sappiamo di preciso quanto durò questa epidemia sappiamo che fu un'epidemia catastrofica sappiamo che ebbe conseguenze gravissime sulla struttura stessa dell'impero romano su elementi chiave della società antica come ad esempio l'esercito come ovviamente la distribuzione della popolazione e come vedremo insomma tra poco questa epidemia che forse fu un'epidemia di vaiolo in realtà ancora oggi si discute sull'identità insomma del male che colpì l'impero romano in questo periodo di tempo ebbe davvero l'effetto di uno spartiacque nel mondo antico allora il termine tutti sanno credo ormai da molti mesi se ne parla come nel termine epidemia nella etimologia del termine epidemia c'è l'idea di qualcosa che incombe che piomba epi sul popolo sul demos sulla popolazione quindi nel termine epidemia c'è qualcosa una minaccia una minaccia e quello che ci interessa questa minaccia non riguarda il singolo è una minaccia collettiva perché effettivamente quello in fondo abbiamo tutti sperimentato in questi mesi è che la differenza tra la minaccia che noi abbiamo in fondo ogni giorno qualsiasi azione che compiamo ogni giorno è potenzialmente rischiosa pensiamo a guidare la macchina attraversare la strada andare in motorino ecco sono tutte azioni che hanno una forte componente di rischio ma la grande differenza della pandemia è che è un rischio che non riguarda il singolo rischio assolutamente collettivo ed è legato a un fenomeno di diffusione collettiva nella popolazione che è il contagio questo fa io credo poi saltare ogni parallelo ovviamente quando si dice che le probabilità di morire in questo caso di coronavirus non sono poi troppo più alte di quelle che si hanno di morire non so per una caduta di motorino in realtà si sta dicendo anche una cosa piuttosto sbagliata perché al di là del calcolo statistico è il tipo di minaccia che è del tutto diverso la minaccia della pandemia è una minaccia che si trasmette col contagio ecco tutto diverso da quello che accade in un'azione in un'azione come può essere un'azione della nostra quotidianità ecco come vedremo questo aspetto ha una importanza chiave nel modo in cui Galeno da medico antico si diciamo prendeva posizione riguardo a questo a questo fenomeno così devastatore in realtà l'altro termine di cui non si è parlato con uguale intensità in queste settimane in questi mesi è proprio il termine richiamato da Francesca Gambetti nei testi che ha appena letto il termine loimos ora questo termine si può tradurre più o meno con con pestilenza ecco ma la cosa interessante è che nella lingua greca è un termine quasi del tutto identico non sappiamo per quale ragione cioè non abbiamo delle certezze che vadano a collegare l'etimologia di questi due termini ma comunque si è significativo che il termine loimos che indica la pestilenza è quasi identico al termine limos peraltro in greco moderno si pronunciano esattamente nello stesso modo che indica l'altra grande minaccia collettiva cioè la carestia è come se in queste due parole si concretizzassero le due minacce collettive per eccellenza nelle società antiche cioè la fame la fame collettiva e la malattia collettiva ora ricordiamoci di quello che ha appena detto Francesca Gambetti sulla struttura della medicina antica avete visto come nei testi ippocratici che sono stati letti svolge un ruolo assolutamente chiave il paziente e questo in qualche modo sembra non essere particolarmente significativo è chiaro che la medicina è rivolta alla cura di pazienti in realtà lo è e lo è perché la medicina antica differisce in un modo abbastanza determinante rispetto alla medicina che noi conosciamo la medicina antica è sempre e innanzitutto medicina del singolo paziente cioè quello con cui il medico si va a rapportare quello rispetto a cui il medico effettua la sua diagnosi la prognosi e emette la sua terapia non è tanto una gruppo di persone ma è un certo singolo paziente e avete visto per esempio nel passo ippocratico dove si parla esplicitamente di natura individuale di natura dell'individuo cioè la cura nell'antichità è eminentemente una pratica che si instaura tra colui che detiene la disciplina cioè il medico colui che detiene la disciplina medica e il singolo paziente con cui il medico interagisce siamo in un mondo tutto diverso da quello di adesso per esempio Galeno di cui leggeremo tra poco qualche linea dedica moltissime pagine delle sue opere a dire come il paziente deve essere una persona che collabora con il medico e che sia in grado di esprimere in maniera corretta i suoi sintomi ma per quale ragione questo è facile in fondo capirlo nella medicina antica non esistevano assolutamente i mezzi diagnostici che noi possediamo e la medicina l'ispezione dell'interno del corpo era sostanzialmente legata a due fenomeni le secrezioni cioè quello che usciva fuori da qui tutta l'enorme importanza che hanno nei trattati di medicina antica all'esame di tutte le secrezioni dei corpi perché erano come dire una maniera per avere un occhio verso l'interno del corpo ma l'altro mezzo potentissimo su cui la medicina antica doveva far leva era il linguaggio Galeno costantemente nelle sue opere insiste sulla proprietà di linguaggio che deve avere non soltanto il medico quando parla della sua disciplina ma il paziente perché è in base alla capacità che il paziente ha di raccontare quello che prova che il medico potrà poi individuare la terapia quindi ovviamente non c'è nulla pensate a tutto quello che attualmente viene delegato ai test viviamo nei mesi in cui credo che questo sia familiare a ciascuno di noi ecco tutto questo nell'antichità non esisteva la cura era sempre la cura di un paziente che entrava in rapporto con un medico e questo si collegava a un altro aspetto centrale io provo semplicemente a leggere qualche testo che ho scansionato provo quindi a ma non è importante ho qualche problema del condividere lo schermo ma non è importante perché dopo questa relazione condividerò magari un piccolo pdf con i vari testi che ho che ho letto non sono abilitato a condividere lo schermo ma non è importante in questa conferenza allora in una sua opera molto importante dedicata proprio al metodo della cura forse ora sono ma io direi non mi non mi pare una come dire un elemento chiave condividere lo schermo in questo momento adesso andiamo avanti senza magari bloccarci su questo piccolo dettaglio tecnico leggo questo passo di una grande opera che Galeno ha scritto sul metodo della terapia sul metodo della cura così dice Galeno è curato non l'uomo comune generale ma ciascuno di noi e chiaramente uno ha un temperamento e una natura i termini sono krasis e fiusis un altro un'altra costoro sono dei medici cattivi per Galeno a cui Galeno rivolge critiche molto sferzanti ritengono che vi sia una sola cura di tutti gli uomini io se sapessi trovare esattamente la natura di ciascuno sarei tale quale penso sia il dio Asclepio ma poiché ciò è impossibile per quanto almeno riguarda l'approssimarvisi il più vicino che sia possibile all'uomo io ho imparato a esercitarmi e lo raccomando agli altri questo passo ci dice innanzitutto che per Galeno il medico eccellente è colui che sa individuare la cura adatta al singolo paziente che ha davanti e dietro questa intuizione c'è l'idea che ogni essere umano ha una complessione cioè ha una natura individuale causata dalla sua composizione fisica in particolare Galeno porta alla sua perfezione tecnica più raffinata quella dottrina antica secondo cui gli esseri umani sono composti da sostanze fondamentali cioè i quattro umori sangue flegma bile gialla e bile nera sono quattro sostanze fondamentali che hanno delle proprietà e siccome le sostanze possono essere mescolate in proporzioni diverse in realtà ogni essere umano ha una sua natura che è collegata al modo in cui ha fatto il suo corpo il buon medico è colui che riesce a individuare la singola natura del suo paziente e alla singola natura del paziente riesce a somministrare i rimedi adatti perché gli stessi rimedi possono essere nocivi in alcuni casi e invece curativi in altri casi per capire bene questo tipo di procedimento pensiamo a come differisce da una dimostrazione geometrica quando i ragazzi che ci stanno ascoltando sono chiamati alla lavagna in un'interrogazione di matematica sono chiamati magari a dimostrare un teorema geometrico a partire da una da un diagramma che tracciano col gesso ad esempio caso più banale di tutti il teorema di Pitagora a partire da un triangolo abc ma quando vanno a condurre la dimostrazione relativa a quel triangolo non stanno dimostrando il teorema di Pitagora il rapporto al triangolo che hanno disegnato a quel preciso triangolo collocato nello spazio sulla lavagna in realtà stanno selezionando da quel triangolo quelle proprietà che appartengono a tutti i triangoli ed è su quelle proprietà che conducono la dimostrazione cioè avere una figura piana con tre lati la somma degli angoli interni pari a 180 gradi e così via e così via il medico fa esattamente il contrario cioè il medico antico quando ha davanti un essere umano e lo deve curare deve capire qual è la natura non di Antonio o Giovanni in quanto esseri umani ma di Antonio in quanto Antonio perché se Antonio ha una struttura umorale cioè una composizione noi diremmo una composizione chimica ovviamente non è questo il termine che usava Galeno diversa da Giovanni ebbene è possibile che lo stesso rimedio che ha salvato Giovanni uccida Antonio questo fa sì che nella medicina antica dice Galeno nel passo che abbiamo letto abbiamo abbiamo ascoltato il termine congettura per quale ragione perché il buon medico dovrebbe essere colui che come il dio Asclepio cioè con una conoscenza che gli esseri umani non possono avere conosce la natura di ogni singolo paziente cioè conosce come è fatto qual è il temperamento qual è noi diremmo la composizione chimica di ogni singolo paziente che va a curare ma questo ovviamente non è possibile per il medico umano per quanto egli sia bravo allora che cosa fa il medico Galeno era anche un grande logico il medico attraverso l'uso della sua conoscenza e dei metodi della logica cioè dei metodi inferenziali noi potremmo dire che procede un po' come Sherlock Holmes cioè che va a raccogliere tutti gli indizi e a partire da tutti gli indizi che ha raccolto riesce a individuare la malattia è il ragionamento causale di cui parlava Francesca Gambetti e riesce a prescrivere la terapia adatta a quel singolo non la terapia in generale questo modello di terapia ovviamente stiamo parlando di una schematizzazione molto ampia chi avesse interesse allo studio della medicina antica potrebbe vedere nei dettagli come questo modello poi fosse declinato in modo diverso dalle varie scuole mediche ma certamente Galeno che è un medico razionalista cioè ritiene che l'intelletto umano riesca a cogliere le cause delle malattie attraverso la ragione e a prescrivere i rimedi adatti ecco per Galeno questo quadro è quello che nel caso migliore Galeno era convinto di essere un medico eccellente garantisce la cura migliore per renderci conto di come nella medicina antica il riferimento all'individuo sia fondamentale possiamo pensare anche a un altro passo forse qualcuno l'avrà letto in qualche lezione scolastica cioè l'inizio della metafisica di Aristotele all'inizio della metafisica di Aristotele viene descritto il lungo processo della conoscenza che dalla percezione cioè dal tipo di conoscenza più elementare non razionale che è proprio tanto degli esseri umani quanto degli animali diversi dall'uomo ecco dalla percezione si arriva alla conoscenza più astratta più generale quella che è per l'appunto quella della filosofia secondo Aristotele bene in questo in questo lungo percorso Aristotele parla lungamente della medicina che era considerata come l'esempio della conoscenza efficace capite bene che il medico fin dall'antichità godeva di enorme prestigio perché era colui capace di curare no? durante la malattia ora Aristotele distingue due tipi di medicina quella basata solo sull'esperienza e quella basata sulla conoscenza ma quello che ci interessa è che quando Aristotele parla della di come opera il medico Aristotele dice il medico non cura l'uomo ma cura semmai Callia Callia è un esempio di nome a cui capita di essere uomo ed è una frase stranissima perché noi non diremmo che a ognuno di noi capita di essere uomo a me può capitare non so di indossare una maglia blu o grigia ma non mi capita di essere un essere umano è qualcosa che caratterizza la mia natura però il termine usato da Aristotele che è un termine molto forte è il verbo siumbaino che indica proprio l'appartenenza di qualcosa di accidentale ecco questo termine per Aristotele trova una collocazione nella medicina il medico indirizza la sua attenzione al singolo in quanto singolo ad esempio riprendendo l'esempio della geometria al triangolo a bicicchio di segno in quanto è quel singolo triangolo perché è nel rapporto tra il singolo paziente e il medico portatore della scienza medica che si che si rivela la capacità di curare questo ovviamente è molto collegato a quello che appena ha detto Francesca Gambetti ad esempio sul tema dei giorni critici il buon medico è quello che sa riconoscere non in generale qual è il decorso di una malattia universale ma nel singolo paziente quali sono quei giorni che sono decisivi per il decorso della malattia cioè non diremmo è una terapia assolutamente individualizzata e quando Galeno va a spiegare che cos'è questa pestilenza di cui parla tantissime volte nelle sue opere noi troviamo alcuni elementi che ci possiamo spiegare proprio sulla base di quello che abbiamo detto in primo luogo per Galeno Galeno ovviamente non aveva idea di che cosa fossero i virus questo è del tutto evidente la pestilenza ripeto le ricerche moderne hanno ipotizzato che fosse un tipo di vaiolo ma c'è comunque una certa incertezza questa piaga che aveva tormentato l'impero romano per Galeno era causata da due fattori l'aria aria pestilenziale che veniva respirata ma perché l'aria poi desse luogo a una certa malattia con un certo decorso era necessario che ci fosse una costituzione adatta a riceverla cioè ancora una volta vedete come la la malattia la malattia epidemica l'essere il contagio quello che noi chiamiamo il contagio è esattamente il risultato dell'interazione di una causa e dell'individuo il termine che Galeno usa per indicare l'essere adatto è un termine chiave il termine epitedeiotes in greco non ci interessa in questa sede cioè il termine che indica una natura adatta a ricevere qualcosa oggi nel vocabolario della filosofia tecnica si parla di proprietà disposizionali ma insomma sono termini molto complicati Galeno ha un linguaggio molto più intuitivo ma di nuovo torna quella idea secondo cui nel male quello che conta non sono solo le circostanze esterne ma è il modo in cui ogni singolo in base alla sua natura alla sua complessione alla sua struttura morale reagisce con la natura che gli è intorno ecco questa lunga premessa ci può portare adesso a capire meglio come Galeno reagisce davanti alla pandemia che colpi l'impero allora due brevissime precisazioni in questi mesi sono state dette tante cose sul meccanismo delle pandemie una delle cose che io trovo più sbagliate è che mai nella storia umana si era verificato qualcosa del genere in realtà se mai è vero tutto il contrario mai nella storia umana si era verificato in una parte considerevole del mondo come il mondo ricco una assenza di epidemie gravi per un secolo cioè quello che in qualche modo si è verificato non è una enorme eccezione semmai è un ritorno alla triste normalità degli eventi umani un'altra a mio modo di vedere grande sciocchezza che si è detta è che solo nell'epoca della globalizzazione i viaggi hanno permesso una propagarsi così rapido della pandemia ora rispetto a questa sottolineo colossale sciocchezza ci sono da dire due cose noi non sappiamo assolutamente quale sia stata la diffusione delle pandemie antiche cioè noi parliamo di questa pandemia di cui vi sto adesso presentando le conseguenze nell'impero romano nel secondo secolo dopo Cristo sicuramente questa questa malattia aveva avuto origine in Oriente quali danni avrà fatto in Estremo Oriente quali danni avrà fatto in Africa noi non lo sappiamo ci mancano testimonianze sappiamo che a Roma per quello che hanno calcolato gli storici fino al 30% della popolazione non si ammalò ma morì di questa di questa pandemia quindi stiamo parlando di una scala di danni assolutamente fuori controllo rispetto a quello che sperimentiamo adesso e quando si parla delle società antiche e delle società diciamo premoderne come società immobili non si tiene conto che gli uomini si sono mossi sempre in modo molto rapido soprattutto a causa di un fenomeno le guerre le pandemie sono state quasi sempre legate a guerre la peste nera venne portata da genovesi che si erano contaminati nell'assedio di mongoli i quali avevano probabilmente buttato dei cadaveri nella città dei genovesi e da lì era nato il contagio forse era nato da roditori ma fatto sta che le guerre che sono state sempre fenomeni molto rapidi hanno sempre garantito una enorme espansione una rapida espansione e una enorme diffusione di malattie pensate all'altro grande caso che non viene mai ricordato ma insomma è un caso veramente drammatico alle malattie portate dagli europei in America furono queste le malattie portate dai conquistatori europei a sterminare milioni e milioni di nativi americani e all'epoca di Galeno probabilmente da una guerra cioè dalla guerra che gli imperatori in quel periodo erano due gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero avevano condotto a oriente contro i parti quindi da oriente arrivò questo questa infezione che si diffuse molto rapidamente in pochi mesi non dobbiamo pensare ad anni in pochi mesi occupò quello che per un romano dell'epoca era semplicemente tutto il mondo conosciuto quindi non era una pandemia meno globale di quella di adesso e aveva un'estensione enorme sappiamo che si diffuse in poche in pochissimo tempo e Galeno che era originario di Pergamo nell'Asia minore e che era arrivato a Roma per la sua grande competenza di medico e per come dire imporsi nella grande metropoli culturale dell'epoca Galeno andò via da Roma andò via da Roma per mettersi al riparo dal contagio infatti il primo soggiorno di Galeno termina grossomodo a Roma all'arrivo intorno al 166 dell'epidemia forse di Vaiolo che nessun medicamento si usciva a curare per cui ogni cura sembrava del tutto incapace di provvedere rimedio in realtà Galeno era una figura in vista nell'impero romano era un medico famoso era una persona influente e il suo esilio da Roma autoimposto non durò molto venne richiamato da Marco Aurelio che si apprestava a una nuova campagna militare questa volta non verso oriente ma verso le regioni danudiane e infatti Galeno torna in Italia lo diremmo quindi dalla sua patria dove si era rifugiato torna in Italia e raggiunge l'imperatore accampato con l'esercito ad Aquileia qui Galeno ci dà proprio un resoconto perché dice in un'opera poi vi invierò la pagina da cui leggo un'opera dedicata ai propri libri dei libris propris tradotta in italiano da Mario Veggetti leggo la traduzione di Veggetti appena fui arrivato ad Aquileia la peste peste quindi Calapestilenza non ovviamente la peste in senso vero e proprio la peste nera colpì come mai prima tanto che gli imperatori fuggirono subito verso Roma insieme con pochi soldati mentre noi i più numerosi a lungo ostentamo a salvarci ma la maggior parte morì non solo per la peste ma perché tutto questo accadeva in pieno inverno Lucio uno dei due imperatori Lucio Vero ci lasciò durante il viaggio e Antonino cioè Marco Aurelio fece portare il suo corpo a Roma per celebrare l'apoteosi poi cominciò a preparare la spedizione contro i Germani vuole portare con sé Galeno Galeno anche questa volta riesce a defilarsi allora questo resoconto di Galeno ci innanzitutto ci fa capire quanto fosse rapido e drammatico l'impatto della peste del del vaiolo quello che fosse l'esercito imperiale è accampato ad Aquileia ci sono i due imperatori il medico dell'imperatore Galeno li raggiunge ma non si può fare nulla il contagio è assolutamente assolutamente incontrollabile e Lucio Vero che forse aveva contribuito proprio a portare l'epidemia nei confini dell'impero nella sua campagna orientale questa volta muore muore quando d'Aquileia cerca di tornare a Roma quello che ci interessa è che questo resoconto ci dice come l'epidemia del 166 circa segni un momento in cui emerge un fattore chiave della crisi dell'impero romano cioè l'esercito il problema di garantire un esercito sufficientemente numeroso per proteggere i confini dell'impero emerge in maniera assolutamente drammatica per la prima volta con l'epidemia del 166 ed è qui io credo che possiamo vedere come i due significati di crisi si saldino cioè la crisi come il decorso critico del paziente ma la crisi come crisi di un'epoca perché un aspetto che hanno avuto le pandemie per chi studia un po' la storia delle varie pandemie nell'arco dei secoli non è stato tanto quello di produrre cambiamenti traumatici certo ma di produrre cambiamenti traumatici che hanno fatto emergere tensioni che già c'erano ma che in qualche modo in situazioni di normalità e di assenza di minaccia collettiva venivano tenute sotto controllo questo in qualche modo lo possiamo vedere nella famosa peste di Atene raccontata da Tuscidide la peste di Atene raccontata da Tuscidide non segna certo la crisi della democrazia ateniese perché la democrazia ateniese non finisce con la peste e certamente la sua crisi semmai aveva radici molto più lontane cosa succede le fa emergere le porta alla luce esattamente come la peste del 166 porta alla luce per esempio alcuni aspetti chiave dell'impero romano la difficoltà di garantire i confini attraverso un esercito sufficientemente numeroso le invasioni che cominciano a esserci in fondo Marco Aurelio si sta per recare nei confini danubiani dove è una vicenda che più o meno tutti conoscono perché è quella del gladiatore quando quando appunto Marco Aurelio insomma si trova col gladiatore in guerra ecco sta nelle campagne che erano cominciate in quel periodo che narra Galeno nella pagina che abbiamo appena letto bene un altro aspetto che secondo alcuni la grande pandemia del secondo secolo porta è non il nascere ma l'imporsi di una serie di culti religiosi che già c'erano ma che vengono in qualche modo incoraggiati da questo clima di angoscia collettiva che c'era tra questi culti religiosi ovviamente dobbiamo ricordare quello che poi finirà per imporsi nel corso dei secoli cioè il cristianesimo che la pandemia non fosse stata solo una malattia ma sia stata poi percepita anche nei decenni successivi come un evento simbolico lo ricostruiamo da un altro scritto di Galeno questo scritto è stato sconosciuto per secoli e secoli e in realtà è stato riportato alla luce è stato ritrovato in un monastero 15 anni fa solo 15 anni fa da uno da un ricercatore francese che ha un cognome italiano Antoine Pietrobelli questo ricercatore in un monastero di Salonico ha trovato uno scritto di Galeno prima sconosciuto è uno scritto che Galeno ha composto molti anni dopo la l'epidemia di Vaiolo lo ha composto più di 20 anni dopo intorno al 193 dopo Cristo dopo che si era verificato un disastroso incendio a Roma un disastroso incendio a Roma che aveva che aveva addirittura distrutto una larga parte della della città la parte che si trova vicino al Colosseo insomma attualmente la parte che si trova per chi conosce un po' Roma nella Basilica di Massenzio nell'area della Basilica di Massenzio dove c'era un famoso tempio il templo Unpacis venne distrutto da questo gravissimo incendio e Galeno perse tantissimo perse in particolare tutta la sua biblioteca perse la sua collezione di attrezzi medici cioè fu qualcosa di assolutamente rovinoso per persi i suoi laboratori noi potremmo dire bene Galeno scrive poi un'opera un'opera noi diremmo di filosofia morale per far vedere come lui è riuscito a non deprimersi malgrato questa gravissima perdita infatti quest'opera chiamata in greco peria liupias che potremmo tradurre con il non affliggersi cioè Galeno riesce a non affliggersi ma quando Galeno all'inizio della di quest'opera che è indirizzata a un interlocutore come come spesso accade nelle nelle opere di Galeno richiama le circostanze assolutamente canoniche per l'afflizione beh ovviamente richiama richiama la pandemia di qualche anno prima quando tu eri qui dici al suo interlocutore mi hai tu stesso visto perdere in un grande attacco della lunga peste questo è un aspetto su cui Galeno insiste molto qui in altre opere la peste cioè l'epidemia fu lunga fu lunga non fu un evento puntuale quindi fu qualcosa che durò molto tempo molti anni in realtà e cambiò profondamente il modo di percepire il mondo in un grande attacco della lunga peste quasi tutti i servi che avevo a Roma e poi hai sentito dire che anche in precedenza una perdita del genere mi era già successa e così via cioè la pandemia le perdite che si possono avere le perdite drammatiche causate dalla dell'epidemia sono diventate come dire il paradigma della circostanza drammatica come emerge in questo e in altri passi ma attenzione la circostanza drammatica ha sia un impatto emotivo ma e qui io chiuderei ritornando a quello che ho detto all'inizio rendeva la medicina antica sostanzialmente impotente il medico antico non è fatto per curare popolazioni non ha gli ospedali non ha non ha fatto per garantire trattamenti collettivi il medico antico è fatto per curare il singolo paziente e quando una malattia colpisce insieme migliaia e migliaia di persone per un lungo tempo sostanzialmente il medico antico perde gli strumenti del mestiere Galeno aveva in questo la medicina di Galeno è molto simile alla medicina cinese in realtà dava un ruolo chiave nella diagnosi al tastare la pulsazione al tastare il polso per Galeno scrive moltissime opere proprio sulla sulla pulsazione e uno dei problemi che egli nota in una di queste opere è che la lunga e di nuovo lunga peste rende e le febbre irregolari che causa in tantissime persone insieme rende questo mezzo di diagnosi improvvisamente dal più prezioso a un metodo sostanzialmente inefficace e questo essere diretto verso il singolo spiega anche un altro aspetto Galeno quando parla dei sintomi della della epidemia non ne dà una descrizione come dire collettiva cioè mentre in altre malattie Galeno descrive i sintomi no? descrive i sintomi di questo e quel male che nel caso dell'epidemia siccome la sua descrizione è sempre dedicata a questo o quel paziente in realtà descrive come si è manifestata nel paziente che sta curando e questo è abbastanza chiaro soprattutto in un passo sempre dell'opera sul metodo terapeutico da cui abbiamo cominciato ed è il passo in cui Galeno si dilunga di più in quest'opera Galeno si sta occupando c'è un piccolo problema perfetto si sta occupando delle delle ulcerazioni alla trachea ecco e in particolare dentro questa trattazione delle ulcerazioni alla trachea egli affronta un caso clinico di una persona che affetta dalla peste o dalla epidemia aveva delle forti ulcerazioni interne questa questa persona questo paziente dice Galeno conosceva del conosceva qualcosa di medicina quindi non era ignorante di medicina e quindi era un buon paziente per Galeno collaborare col medico collabora col medico individua i sintomi e individuando i sintomi Galeno riesce a somministrare una certa cura ma la descrizione dei sintomi è limitata alle ulcerazioni interne alla trachea che aveva questo paziente non abbiamo una descrizione di tutti i sintomi della dell'epidemia che colpiva l'impero tant'è vero che poi quando Galeno deve in un'altra opera redigere una lista generale di sintomi non sa fare di meglio che citare Tucidide la cosiddetta peste di Atene che probabilmente non aveva niente a che fare con il tipo di malattia con cui si confrontava Galeno alcuni hanno ipotizzato che la peste di Atene fosse tifo non lo sappiamo ma nulla ci fa pensare che sia stata la stessa malattia con cui si confrontava Galeno però il fatto che sia una malattia collettiva è quasi preponderante rispetto alla descrizione dettagliata dei sintomi e cosa succede che questa persona curata da Galeno che era evidentemente una persona colta e benestante dopo la prima cura somministrata da Galeno si imbarca e dopo quattro giorni si reca non troppo lontano in fondo da Sciamarina a Stabia quindi a Castellamare di Stabia dove beve un latte il latte di Stabia per l'appunto di Castellamare di Stabia a cui Galeno per la qualità dell'ambiente assicura delle proprietà quasi miracolose e questo latte che viene ingerito da questo paziente secondo Galeno riesce a lenire le sue ulcerazioni ancora oggi ho controllato prima di questa relazione il latte di Stabia è considerato una gloria locale e questo passo di Galeno è citato in varie pubblicazioni che celebrano per l'appunto le glorie della città campana che cosa ci dice tutto questo? Beh innanzitutto che secondo la medicina antica sarebbe stato assolutamente possibile che il latte di Stabia in un altro paziente con un'altra complessione umorale sarebbe stato possibile avere a caso del latte di Stabia non effetti positivi ma effetti negativi lo abbiamo detto conta l'interazione del singolo ma non è una cura collettiva non è una cura capace di lenire in generale questa malattia in fondo questo caso clinico ci fa vedere anche che da Galeno è registrato come un successo perché lui alla fine ha curato il singolo ma ci fa anche vedere come rispetto a un fenomeno come la pandemia del secondo secolo il quadro di conoscenze e in fondo lo stesso quadro teorico della medicina antica si trovasse sguarnito si trovasse in qualche modo poco attrezzato Galeno non non registra quasi mai insuccessi da parte sua questo perché non tanto perché Galeno fosse una persona vanitosa certamente una persona non modesta ma dobbiamo tener conto che il medico antico era sempre soggetto ad attacchi il medico antico era sempre soggetto ad attacchi e doveva difendere la sua disciplina doveva difendere la sua disciplina chi in fondo c'è chi ha detto che se si era malati prima dell'epoca moderna beh la sorte peggiore che ti poteva capitare era quello di essere curato da un medico perché in qualche modo la medicina premoderna aveva un tasso di letalità altissimo Galeno fa di tutto per far vedere che riesce sempre invece a curare i pazienti e tra l'altro in quei rari casi in cui il trattamento non ha l'effetto sperato Galeno talvolta un po' discretamente fa capire che la colpa è del paziente perché magari non ha raccontato bene i sintomi perché non ha collaborato e così via in realtà ecco forse vale quello che ha detto una recente studiosa proprio di Galeno che il maggior successo terapeutico di Galeno è stato quello di vivere a quanto pare fino a circa 90 anni in un'epoca in cui durante si è calcolato che durante la grande pandemia di cui Galeno fu testimone se si aveva la fortuna di essere una persona agiata cioè di una persona che stava bene poteva proteggersi beh allora si poteva avere un'aspettativa di vita intorno ai 30 anni e anche un po' di meno ma questo solo in pochi casi privilegiati in realtà l'aspettativa di vita per la quasi totalità delle persone era molto inferiore e stiamo parlando di Roma non stiamo parlando di aree depresse per così dire quindi questo contesto ecco ci fa vedere come la la pandemia forse di Vaiolo del secondo secolo dopo Cristo abbia interagito come una grandissima crisi della storia umana nella con l'impero di Marco Aurelio e come il medico Galeno ne abbia discusso nella sua opera io terminerei qui questo mio intervento bene ti ringrazio Riccardo per questo tuo bellissimo escursus storico per per i molti e ricchi riferimenti che ci hai dato e ho visto che anche in chat qualche domanda è sorta qualcuno chiedeva quali fossero i due tipi di medicina secondo Aristotele poi mi sembra che qualcun altro abbia risposto non so se tu volevi precisare qualcosa uno potremmo chiamarlo la medicina della nonna cioè la medicina empirica cioè la medicina basata sull'iterazione di osservazione singole se io ho visto tante volte che la camomilla lenisce il mal di stomaco io somministerò la camomilla a chi ha mal di stomaco questa è la medicina fondata sull'esperienza e l'esperienza per Aristotele riguarda sempre l'individuo sempre Antonio Marco Giovanni Roberta e così via rispetto a cui ho visto che hanno mal di stomaco e che sono guariti con la camomilla l'altra medicina è di colui che non si limita a constatare un fatto ma sa che ha esseri umani con una certa costituzione umorale la camomilla in virtù della sua composizione noi diremmo chimica ecco produce certi effetti in certe condizioni cioè potremmo dire l'altra medicina fondata su quella che Aristotele chiama la tecne cioè la tecnica cioè un corpus di conoscenze che sono razionali trasmissibili attraverso l'insegnamento e che questo è un aspetto chiave della tecne aristotelica sono esplicative è quello che diceva Francesca Gambetti prima il termine causa il termine haitia viene usato per la prima volta ha un'origine giuridica haitia vuol dire sostanzialmente ciò di cui si è incolpati e tra l'altro ancora oggi usiamo il termine causa anche in senso giuridico ovviamente ma in senso astratto cioè per indicare ciò che spiega qualcosa o lo produce beh in senso astratto è usato per la prima volta negli scritti di medicina e dopo in filosofia ma l'origine come dire dell'uso astratto del termine etia per indicare la causa è proprio negli scritti del corpus ippocratico per esempio nel trattato sull'arte il peritecnes bene quindi potremmo dire che i due tipi di medicina di aristotele sono la medicina empirica e la medicina tecnica cioè la medicina che è una disciplina razionale ma ovviamente il problema della medicina è che senza esperienza il medico poi non cura il paziente quindi può capitare che il medico che ha una forte conoscenza della disciplina poi di fronte al singolo caso non sappia riconoscerlo non sappia applicare quella conoscenza al singolo caso e questo ovviamente è una situazione tutta diversa da quella del geometra il geometra non ha il problema di diagnosticare qualcosa nel singolo triangolo mentre il medico ha il problema di applicare il suo corpus di conoscenze generali al singolo paziente malato e questo come abbiamo visto è un aspetto chiave della medicina antica che troviamo molto presente nelle opere di Galeno esatto anche questo aspetto è importante che tu hai ribadito sottolineare come in fondo i medici si siano sempre un po' dovuti difendere giustificare la propria competenza le proprie scelte teoriche le proprie scelte anche terapeutiche da sempre pensiamo agli cosiddetti teatro sofisti ma Galeno appunto non altro esempio come anche l'arte retorica l'arte la logica l'arte oratoria sia importante sia uno strumento anche importante di supporto di difesa e di tutela della pratica del medico uno strumento non indifferente insomma di cui il medico deve dotarsi e deve saper usare e anche il paziente tengo a sottolineare il paziente il linguaggio del paziente deve fare un po' le vesci delle radiografie che non esistevano delle risonanze che non esistevano deve raccontare quello che sente se lo racconta male la diagnosi ne potrà risentire certo certamente in questo poi mutuo scambio tra filosofia e medicina in cui c'è una sorta di prestito reciproco di modelli di metafore perché come abbiamo visto Acmeone usa la metafora politica però abbiamo visto molte volte Platone utilizzare la metafora medica per descrivere anche fenomeni politici quindi insomma poteva essere un po' arbitrario scegliere questi autori forse più Galeno per dire ma in fondo non sono filosofi a pieno titoli sono un po' allatere in realtà come lo che ho cercato di dimostrare io ma è quello che sicuramente tu hai fatto molto bene per quanto riguarda Galeno è che queste due discipline per lungo tempo hanno proseguito in maniera parallela ma insomma con grosse con reciproche contaminazioni direi da questo punto di vista certamente il rapporto tra medicina e filosofia è sempre stato secondo un rapporto di unione di conflitto ma non si sono mai ignorate pensate come uno dei grandi filosofi arabi rasi sia stato anche uno dei grandi medici tra l'altro uno dei primi che lavorò in ospedale questo è un aspetto chiave che nasce proprio nella medicina e nella filosofia avicenna è stato uno dei più grandi filosofi arabi ed è stato anche il medico il canone di avicenna ma in realtà le due discipline si sono sempre hanno sempre dialogato spesso rivaleggiando per Galeno il buon medico è anche filosofo ma nel senso che in realtà è il medico essere il vero filosofo non quelli che si proclamavano filosofi e dal canto loro i filosofi dicevano che quello che importa è la medicina dell'anima che sono loro a poter dispensare non la medicina del corpo ma insomma sono stati sempre quello che è molto interessante della medicina antica e che la rende io credo ma è una mia personale opinione per lo storico della filosofia forse persino più interessante della storia della matematica è che il matematico dell'antichità non doveva giustificare il suo lavoro il matematico era ritenuto un'autorità quasi divina aveva sempre ragione depositario della verità e quindi non doveva per niente giustificare la sua conoscenza il medico non doveva far altro che giustificare la sua conoscenza di fronte a coloro che ne mettevano in dubbio la legittimità da qui quando i docenti che sono qui presenti di filosofia generalmente sicuramente avranno spiegato ai loro allievi la filosofia del XVII secolo XVII XVIII secolo e l'opposizione tra razionalisti ed empiristi quindi da un lato abbiamo Leibniz e Spinoza dall'altra parte abbiamo gli empiristi inglesi di Locke bene quello che non si dì Locke era un medico innanzitutto prima cosa un'altra cosa di cui si deve essere coscienti che in realtà le categorie razionalisti ed empiristi non sono nate nella filosofia moderna sono scuole mediche antiche sono da un lato i medici che trovavano nell'esperienza la guida per la loro pratica e rifiutavano una conoscenza fondata sulla ragione e sulla conoscenza astratta delle cause e dall'altro i razionalisti che invece credevano proprio che questo tipo di conoscenza e non solo l'esperienza fosse la guida della loro disciplina e tra l'altro in ambito medico venivano formulati dei problemi che sono molto simili ai problemi che poi ha ripreso la filosofia moderna in tutt'altro contesto quindi effettivamente filosofia e medicina ma ancora ancora oggi in realtà c'è una costante dialogo in fondo pensate a tutto quello che avviene nell'ambito delle neuroscienze e così via c'è una costante interazione tra le tra le due discipline insomma vedo una mano c'era una mano alzata visto che non vedo interventi o domande o richieste di chiarimenti in chat oserei proverei a autorizzare il professor Janne a fare la domanda visto che aveva la mano alzata non so se voleva intervenire grazie rapidamente solo per per dire la domanda è rivolta proprio a lei dottoressa Gambetti che diciamo questa influenza della medicina nel pensiero filosofico che traspare con tutta evidenza è studiatissima in Platone e in Aristotele in realtà ha una ascendenza un po' un po' più antica se pensiamo ad Alcmeone e con il suo concetto di isonomia che poi diventa un concetto che entra in altri linguaggi in altre forme epistemiche come la politica eccetera e altrove la matematica e va bene eccetera e i pitagori hanno completamente questo concetto medico questo l'importanza del ruolo della medicina del metodo medico inaugurato proprio da Alcmeone o suggerito proprio da Alcmeone infatti le sentenze pitagoriche di Aristossimo come ce le propone giambico inizia proprio dicendo che i medici che i pitagorici onoravano soprattutto la musica la medicina e la e la e la divinazione tra le scienze quindi questo volevo richiamare questo questa importanza fondamentale della medicina italica e credo che proprio nella nozione di isonomia ha influenzato non so se non so se sbaglio ha influenzato anche gli ipocratici insomma è interessante questo rapporto degli italici con 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 gli ipocratici e poi volevo dire un'altra cosa la parola crisi se non so se possa essere considerata proprio una chiave ermeneutica dell'intera medicina ipocratica il libro 3 di di antica medicina inizia proprio dicendo che che il che la diciamo il passaggio a un'autentica condizione umana inizia cominciano e comprendono l'importanza della cottura dei cibi quindi è un momento proprio di crisi cioè di divisione da un passato a un futuro che comincia proprio con l'umanità dell'uomo il il concetto religioso nel perire senuso il male sacro cioè è proprio evidente insomma il concetto di crisi da una da una medicina da una medicina diciamo mitologica a una medicina che diventa che rivendica la propria scientificità e poi il trattato sulle acque le aree acque e luoghi dove diciamo si vede l'influenza dell'ambiente quindi l'ambiente come fattore di crisi in senso positivo in senso negativo per la salute dell'uomo non so se questa possa essere una chiave di lettura sicuramente ha ragione allora se lei guarda anche a quella bellissima introduzione dell'edizione UTET del corpus ipocratico che è stata curata da Mario Veggetti Veggetti ritiene che Alcmeone abbia esercitato una notevole imprinting sulla medicina ipocratica che appunto avrebbe rappresentato un po' la traduzione tra l'altro della teoria dei quattro elementi di Alcmeone sarebbe stata poi abbozzata e articolata nella teoria degli umori come poi alla fine sarebbe stata sistematizzata dallo stesso Galeno sicuramente ripeto la medicina è in fondo l'uomo in primo luogo bisogna vivere e poi filosofare quindi la cura del corpo come la cura dell'anima sono stati i due aspetti su cui ci si è concentrati su cui si è riflettuto su cui diciamo sono stati posti al centro della riflessione anche nell'ambiente pitagorico come giustamente ricordava lei quindi sicuramente c'è un'ascendenza molto forte della medicina italica che era anche considerata piuttosto avanzata anche per quanto riguarda tutto quell'aspetto che io non ho toccato che è la dietologia cioè che richiamava anche lei la cottura dei cibi gli alimenti c'è un'ampia descrizione di cosa cosa vada cotto quanto cotto come somministrato perché la dieta era un altro aspetto importantissimo di questa della del piano terapeutico degli strumenti a disposizione perché poi di fatto gli strumenti non erano molti quindi la cottura dei cibi e la medicina come espressione di questa tecnica dell'evoluzione dell'uomo è sicuramente un altro aspetto importante giustissimo il riferimento che io non avevo fatto al morbo sacro che non è sacro nella medicina ma c'è ha le sue cause quindi ritorno a quel contesto di laicizzazione della figura del medico e della pratica che è proprio una presa di distanza dalle pratiche per esempio incubative legate ai templi al culto di Asclepio quanto si faceva per esempio sia in Italia Meridionale si presumo un Asclepeion anche a Velia o all'Epidauro quello più famoso sicuramente no le considerazioni sicuramente che ha fatto sono correttissime insomma non so se ho risposto ma lei ha dato sante sollecitazioni quindi insomma credo di sì dunque vedo una domanda di una docente in chat faceva una riflessione di riferimento al passo ipocratiche di epidemie 1-11 in cui si diceva che il medico deve saper dire conoscere il passato capire il presente e prevedere il futuro l'espressione mi pare molto usibile a quella di Osio De Omero usavano per indicare il tipo di conoscenza della divinità attraverso una sorta di iniziazione un altro elemento che mi riporto ho capito più o meno il riferimento però un altro elemento che mi porta a sottolineare di nuovo il ruolo importante svolto da Alcmeone è che per Alcmeone il sapiente è solo il Dio comunque rimane questa idea il Dio è quello che conosce presente passato e futuro e sicuramente quando lei citate epidemie 1-11 si evoca di fondo questa sapienza quasi divina del medico che deve conoscere un po' tutti i fatti tutta la dimensione temporale Alcmeone per primo introduce il termine un verbo tecnico che è il tecmairestai cioè il medico l'uomo che cosa fa può procedere per tecmeriae cioè per indizi e il medico che cosa fa traduce l'indizio in semeion in sintomo perché ha dietro la costituzione teorica che lo che vede nel sintomo l'effetto di una causa che è la causa eh della vera e propria che è la malattia che è il morbo quindi c'è il morbo c'è il sintomo che diventa la testimonianza di qualcosa di più profondo e in questo aspetto sicuramente c'è un richiamo a questo tipo di sapienza ma ripeto al di là delle delle sonorità no? dei richiami al patrimonio culturale condiviso come era quello rappresentato dal CEO de Omero assolutamente eh la medicina ipocratica si caratterizza per la sua laicità per vedo scusa si potrebbe anche diciamo questa riflessione che ha diciamo fatto la professoressa individuare eh una specie di capacità intuitiva che accomunerebbe il medico alla divinità nel senso che in quel passaggio che faceva prima il professore mh in fondo ci ha voluto dire come tra prassi e teoria tra empiria insomma è corpus diciamo di dottrine di teorie e c'è di mezzo la capacità come ha detto lui di intuizione di mettere in pratica insomma nel caso empirico quella conoscenza che è quell'elemento di intuizione che poi caratterizza e rende diciamo particolarmente brillante un medico e forse anche in questo si vede una sacralità del medico la figura del medico è sacrale nel momento in cui ha in mano la vita e la morte di ognuno di noi di ogni individuo nell'antichità come giustamente ricordava il professor Chiaradonna purtroppo gli strumenti a disposizione non erano moltissimi quindi era era piuttosto facile morire però insomma su questo forse può aggiungere qualcos'altro se vuole il professor Chiaradonna ma io credo ci siano due cose però distinte cioè noi abbiamo visto prima quel passo che ho letto in cui Galeno fa menzione del dio Asclepio il dio quindi dei Medici e Galeno ama paragonare la sua conoscenza a quella di Asclepio differenziandola ma allo stesso tempo suggerendo che comunque Galeno è capace di avvicinarci ecco quello che però naturalmente questo è il caso di Galeno ma si può estendere in realtà a larga parte dei Medici Antichi è che questo avvicinarsi alla divinità avviene attraverso l'esperienza e il ragionamento cioè non avviene o avviene secondariamente attraverso delle non so pratiche iniziatiche o cose di questo tipo quindi diciamo il rapporto con la divinità quando Galeno dice se io conoscessi la natura di ciascuno sarei come Asclepio perché Galeno perché Asclepio conosce come è fatto ogni individuo poi dice Galeno tuttavia pur non conoscendola io attraverso il metodo della medicina e attraverso l'esperienza mi riesco ad avvicinare più che sia possibile a quel tipo di conoscenza detenuta dalla divinità tanto è vero che quando Galeno scrive la sua grande opera sulle parti del corpo umano l'utilità delle parti in realtà lui dice che sta scrivendo un libro di teologia ma la teologia per Galeno è dimostrare come nelle parti del corpo c'è una armonia e una finalità profonda che non può essere altro se non opera di un disegno divino quindi in questo senso è una teologia ma non è una teologia nel senso è un'autentica teologia che però passa per la conoscenza noi diremmo una teologia razionale in qualche modo il termine che lei ha usato è un termine molto efficace ma che ovviamente si può prestare una doppia interpretazione perché il termine intuizione quasi inevitabilmente richiama invece un'altra sfera e in genere ecco per esempio Galeno fa di tutto per distinguere la medicina dalla divinazione perché dice no attenzione il medico ha un vero ha un vero metodo razionale e quindi Galeno fa di tutto per distinguere la sua disciplina da quelle discipline che invece si basavano lo diremmo su una semplice vaga intuizione non sorretta dall'esperienza e dal metodo razionale ma il riferimento alla divinità è assolutamente è assolutamente corretto insomma no la il medico è sacro ad Asclepio ed è protetto da Asclepio e nei casi migliori è un Asclepio su terra noi diremmo noi diremmo in qualche modo ma appunto questo vale anche per Alcmeone è la è la congettura è come direbbe Galeno lo stokasmos cioè la insomma l'usare bene le inferenze sulla base dei dati empirici è la congettura tecnica è questo che garantisce la capacità di avvicinarsi alla divinità non è una sorta di ispirazione ecco se se distinguiamo bene intuizione da ispirazione allora credo che sicuramente siamo sulle giuste strade in attesa magari che la professoressa Grisi formuli la domanda eccetera volevo rispondere un attimo velocemente a questa richiesta del rapporto con lo scetticismo cioè la caratteristica della scienza contemporanea che si fonda sulla messa in dubbio in qualche modo delle teorie scientifiche e richiama anche a teorie complottiste beh io adesso non vorrei entrare nello specifico però devo dire che anche nell'antichità i medici antichi così come quelli contemporanei hanno sempre un po' dovuto affrancarsi rispetto anche ai charlatani cioè troviamo anche negli scritti di Galeno una serie di polemiche di confronti piuttosto accesi e polemici con altri orientamenti teorici con altre modalità di considerazione dell'esperienza del rapporto fra teoria e esperienza e quindi tra i cosiddetti medici empirici e razionalisti ma soprattutto c'è sempre stata una grande genia di charlatani cioè di impostori di praticanti che cantatori e nell'antichità come 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 oggi non so se io adesso non farei tanto un discorso di riportare a modelli antichi parametri categorie della scienza contemporanea baso solo su questa semplice notazione quindi complottisti o non complottisti charlatani ci sono sempre stati e i medici si sono sempre dovuti difendere da queste altre posizioni professoressa prego sì volevo dicevo un chiarimento sulla parola crisi in questo senso è stato detto che il senso diciamo globale delle trasformazioni culturali sono legati mi pare di aver capito proprio all'etimologia di questa parola e allora il mio chiarimento la domanda è questa nella parola greca proprio crisi di origine greca diciamo non è presente anche un elemento di radice interoopea che è scor che significa scoria in greco che significa scoria residuo diciamo e quindi io penso alla crisi come la scissione di un'unità che comunque la scissione di un'unità quindi in elementi costitutivi e che lascia come dire dei frammenti che però questi frammenti sono scorie ecco se applichiamo diciamo questo significato epimologico pieno che rimane greco poi alla fine anche si può avere un'immagine o un'idea una concezione una concezione del mondo che cambia legato appunto a questo significato di crisi che lascia poi perché il dividendo inevitabilmente lascia qualcosa questo volevo dire non la semplice opposizione che valida sicuramente in ambito etico e qui vabbè giuridico ma qui poi la discussione sarebbe lunga perché significherebbe poi dare un valore alla malattia in ambito presocratico presofistico e quindi andiamo ai tragici a escuro eccetera eccetera questo ci porterete però un'altra discussione grazie la sua riflessione la sua osservazione è giustissima se posso rispondere anch'io velocemente e in effetti però la rimanderei al 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 volumetto di Cosellec sulla voce crisi perché secondo me Cosellec lo spiega molto bene quando lei parla di scarto in realtà sottende una teoria anche della storia del tempo escatologico cioè di tutta una prospettiva proiettata in avanti per cui c'è una sorta di idea di processo implicito e di progresso cioè che però non è sempre così quindi attenzione a quando parliamo di scarto di scoria perché c'è sempre un tralasciare qualcosa che sia qualcosa di deteriore di negativo bisogna sempre vederlo e comunque quello che viene scartato lo è alla luce di una interpretazione di una teoria della storia dell'agire dell'uomo molto proiettata verso il futuro verso il miglioramento verso il progresso ma non è sempre stato così e questo ce lo dice proprio molto chiaramente Koselleck proprio l'età moderna imprime un'accelerazione al tempo cambia la proiezione a un certo punto lui dice con la rivoluzione francese la storia non è più maestra di vita perché se la storia fosse maestra di vita vuol dire che il passato ancora ha da insegnarci e quindi non ci sono scorie per dirla nei suoi termini invece quando noi cambiamo la visione dell'uomo e della storia vediamo il tempo proiettato sul futuro a quel punto quel senso di scoria di residuo di lascito di lascito di selezione di ciò che viene a depositarsi di negativo quindi di residuo cambia e si può giustificare ma bisogna vedere qual è la teoria della storia che abbiamo in mente come concepiamo il tempo semplicemente questo quindi ci manteniamo in una concezione come dice ciclica antica diciamo greca è la mia è la mia idea poi lo chiedevo per rendermi conto di questa cosa grazie grazie a lei per l'osservazione giustissima poi c'era una domanda su Kant non so qui se siamo io sicuramente no però non so se c'è qualcuno che la vuole formulare questa riflessione su Kant e la critica del giudizio ma più che altro ci sia una domanda più che una riflessione altrimenti grazie buonasera io sono Anna Maria Bianca ovviamente quando lei professoressa ha fatto l'etimologia di crisi da crino insomma per me che insegno il collegamento con Kant è venuto spontaneo con critica quindi separare sceverare separare il grano eccetera eccetera particolare pensavo alla critica del giudizio perché sappiamo che per Kant il nostro modo di conoscere consiste nel far rientrare un caso particolare nuovo che ci sta davanti in delle leggi generali che noi già conosciamo nella critica del giudizio emerge in questo caso un duplice problema da un lato in cosa consiste la vera intelligenza cioè per Kant la vera intelligenza consiste a nell'inquadrare il caso particolare nel sapere in quali leggi generali cioè si possano conoscere diecimila teorie ma poi si può non essere dei bravi medici per proprio il caso che fa Kant quando di fronte a tutta la scienza infusa che uno possiede a livello mentale non riesce poi a riconoscere il caso particolare l'altro problema che mi sembrava particolarmente attuale è dice Kant quando il caso è del tutto sconosciuto cioè di fronte a un caso particolare non ci sono leggi note che possano essere applicate a quel caso e quindi sembra che la medicina antica la medicina ipocratica che si concentra invece sul singolo paziente e in cui il medico è una sorta proprio di intuitivo che da un quadro clinico generale poi deve fare lui la diagnosi rappresenti proprio la persona intelligente che intendeva Kant cioè a quanto ho capito nella medicina antica la conoscenza del generale non è così praticata è praticato piuttosto appunto alla Sherlock Holmes il poter ricostruire una serie di indizi e formulare una diagnosi particolare e niente volevo dire che secondo Kant questa è proprio l'intelligenza perché una persona può essere colpissima conoscere tutto applicare tutte le leggi generali ma poi di fronte a un caso sconosciuto non avere intuito non avere quel dono che gli consente di fare da Sherlock Holmes cioè di ritrovare tutta una serie di indizi che poi lo portino a a formulare una diagnosi anche nuova posso replicare brevemente a questa interessante domanda allora diciamo questo nella medicina antica bisogna vedere in quale corrente della medicina antica naturalmente comunque indubbiamente la sfida a cui il medico competente doveva rispondere era quella di applicare efficacemente il suo quadro di conoscenze generali a individui sempre diversi l'uno dall'altro questo era la sfida a cui se la medicina però non avesse nessuna generalità sarebbe una medicina direbbe Aristotele solo empirica cioè la medicina per essere una disciplina deve avere una generalità ma il problema è quello di applicare questa generalità all'individuo e penso che chi ha qualche anno in più si ricorda quello che significava anche solo 40 anni fa per un medico di famiglia diagnosticare qualcosa cioè produrre una diagnosi implicava una palpazione indicava tutta una serie di mezzi che ora non esistono sostanzialmente più perché si va immediatamente poi da uno specialista che ha mezzi diagnostici molto più raffinati ma diciamo questo tipo di medicina è rimasto in fondo fino a epoche abbastanza recenti in alcuni in alcuni in alcuni punti naturalmente ecco in questo però di nuovo è giustissimo quello che lei ha detto Galeno per esempio non insiste però tanto sull'intuizione insiste sulla congettura la congettura è qualcosa di diverso l'intuizione è qualcosa di non controllabile la congettura invece è un metodo e quindi in qualche modo è controllabile anche questa esiste un metodo per conoscere razionalmente l'individuo ecco questa è una domanda che in filosofia uno comincia come dire a pensare che si ponga non so da Leibniz o qualcosa del genere in realtà è una domanda che si ponevano i medici antichi esiste un metodo per conoscere razionalmente eh Caglia in quanto Caglia e non Caglia in quanto essere uomo certamente in questa capacità di adattare il corpus di conoscenze generali al singolo paziente che va curato in quanto singolo in questa c'è l'intelligenza del medico e ovviamente in questo processo di adattamento eh che non è la semplice sussunzione eh del caso singolo sotto la regola generale possiamo trovare qualcosa che ricorda il giudizio riflettente Cantiano insomma poi ovviamente insomma dobbiamo tenere presente tante tante distinzioni ma certamente possiamo pensare a qualcosa del genere infatti la riflessione mi veniva pensando proprio alla critica del giudizio e al giudizio riflettente che a me tutto sommato in questa crisi attuale mi sembra sembra che sia proprio quello che manca cioè questa capacità di trovare una risposta nuova o comunque di anche nei medici di base nei medici in generale si è perso di vista un poco secondo me la singolarità del paziente come risposta lo so che di fronte a una pandemia la singolarità del paziente abbiamo visto che era anche un limite della medicina antica quando si trovano davanti all'epidemia la singolarità del paziente era paradossalmente qualcosa che quindi certamente io colgo quello che lei dice ed è uno dei grandi problemi che spesso viene viene rimproverato alla medicina contemporanea quello di ragionare con protocolli generali e quindi di non adattarli al singolo in questo senso un'esigenza metodologica della medicina antica chiaramente in un contesto tutto diverso potrebbe anche essere portata ad alcuni aspetti della medicina contemporanea ma insomma purtroppo con l'epidemia del Antonina della cosiddetta peste Antonina la medicina centrata sull'individuo era semplicemente incapace di lavorare insomma grazie prego posso aggiungere solo una piccola cosa Riccardo a ribadire quello che tu giustamente dicevi io non l'ho letto ma insomma sempre nell'antica medicina ipocrate sottolinea più volte l'importanza del logismos perché il logismos è quello anche che consente la replicabilità dell'esperienza cioè la trasmissione del sapere medico da un medico all'altro perché un altro aspetto a cui la scuola ipocratica fa molta attenzione è quella è la possibilità di insegnare cioè che il medico non è che ogni volta deve cominciare da capo ma ha un bagaglio di osservazioni di riflessioni di congetture come giustamente dicevi tu di ragionamenti di cui si può servire per fronteggiare le situazioni che di volta in volta i casi singoli che gli si pongono davanti quindi proprio l'intuizione è quella che meno viene evocata mentre viene molto più evocata la congettura l'abduzione o la deduzione che dir si voglia eh c'è una mano alzata ancora eh non so se c'è la persona che ha alzato la mano che vuole intervenire abbiamo ancora qualche minuto per un'ultima battuta e poi magari ci salutiamo allora c'è un tanto una domanda questa relazione individuale come paradigma della medicina antica potrebbe tornare utile in termini bioetici nell'epoca contemporanea beh sì forse puoi rispondere anche tu Riccardo ma in parte l'avevi già accennato ah sì insomma ora insomma facciamo però una premessa fondamentale cioè io sono molto contento di essere curato oggi e non nell'antichità cioè perché se no voglio dire eh quindi dobbiamo tenere sempre presente questo cioè per carità la medicina moderna ha tantissimi difetti però insomma il mondo di Galena era un mondo in cui se si arrivava a 25 anni era un successo ecco quindi guardiamo anche questo aspetto della situazione detto questo detto questo è in dubbio che ci sono anche una serie di studi che cercano di riportare questi aspetti della medicina antica in un dibattito contemporaneo soprattutto di fondare la terapia su una collaborazione effettiva del paziente ecco questo sicuramente è un aspetto e è un aspetto che da un punto di vista diciamo in cui la medicina antica è certamente interessante per alcuni aspetti ci può offrire un non tanto un modello perché poi non è che debba offrire un modello ma degli spunti di interesse punti insomma degli stimoli che sicuramente il passato serve sostanzialmente non per avere dei modelli come dire perenni serve per guardare il presente con occhi diversi a questo serve il passato insomma quindi serve per capire come il presente non sia l'unica realtà possibile ce ne siano altre questo è il carattere più interessante dello studio del passato non di darci dei modelli perenni che vanno sempre applicati quindi da questo punto di vista ci fa vedere come c'è stato un mondo molto diverso e aspetti di quel mondo ci possono magari porre interrogativi anche sul sul mondo in cui viviamo oggi ecco bene io direi che forse possiamo chiudere qui questo primo incontro ringraziare tutti per la partecipazione vedremo per la prossima volta appunto come favorire la partecipazione di tutti soprattutto dei docenti e limitare gli interventi magari degli studenti che sono stati iscritti e che probabilmente non sono particolarmente interessati a questa iniziativa vi ricordo che il prossimo appuntamento è venerdì 27 novembre e le relatrici saranno Anna Motta e Lidia Palumbo che parleranno del termine paura ringrazio quindi ancora Riccardo Chiaradonna grazie a Francesca grazie a tutti con cui si è prestato per questo incontro ringrazio tutti i docenti e soprattutto gli studenti che hanno seguito con attenzione e correttezza questo incontro buona serata a tutti a venerdì buonasera a vivere